benvenuti a una nuova puntata della peri teams ciao silvio ciao irene oggi è con noi simone peruzzi benvenuto simone ciao a tutti benvenuti grazie di avermi invitato simone tu sei il nostro esperto di security uno dei tanti esperti security che invitiamo durante i nostri eventi con te vogliamo ritornare su un tema che abbiamo trattato in passato ma che chiaramente come tutti i prodotti microsoft ogni giorno ce n'è una nuova ed è microsoft defender for cloud una soluzione che sta diventando sempre più importante all'interno dell'ecosistema di microsoft sta diventando sempre più multi cloud sempre più cross platform quindi la domanda del popolo è ci spieghi perché un'azienda dovrebbe passare a utilizzare microsoft defender for cloud e che cos'è anche sì grazie allora innanzitutto dell'invito io se vi ricordate dei precedenti eventi organizzati vi ho già parlato un po di defender for cloud a grandi linee anche parlando della strategia di microsoft che consta fondamentalmente di tre pilastri importanti il pilastro del nostro cmsor cloud based che è sentine il pilastro della protezione degli utenti che è tutto l'ecosistema di microsoft 365 e poi il pilastro della protezione dell'infrastruttura che è il cosiddetto defender for cloud quindi oggi voglio darvi un po' qualche approfondimento sulla piattaforma defender for cloud tu prima parlavi di protezione cross cloud e multi cloud e cross platform ed è proprio così prendo a prestito questi due termini che hai appena citato per dirvi che defender for cloud è proprio una piattaforma che serve per la cloud security posture management che è sempre più in voga negli ultimi tempi a livello di cyber security è sempre più richiesta ai nostri clienti ed è anche una piattaforma di cloud workload protection platform quindi una piattaforma di protezione dei workload stessi quindi questi sono i due ambiti nel quale lavora la piattaforma defender for cloud la piattaforma defender for cloud ha fondamentalmente tre grossi radici la radice dell'assessment continui quindi è possibile abilitare defender for cloud per fare un continuo assessment della postura di sicurezza di un cliente ecco quindi cloud security posture management e questo questo continuo monitoring della postura di sicurezza avviene attraverso un parametro che si chiama secure score magari qualche qualche vostro o qualche contenza che ci sta ascoltando già l'ha provato e secure score fondamentalmente è un parametro è una serie di parametri che vengono aggregati in un punteggio finale appunto sia che scora questo punteggio da un valore sulla posizione di sicurezza della dell'ecosistema infrastruttura protetto da defender for cloud la cosa interessante di questa piattaforma è che non solo vi dà uno un assessment rispetto alla alla postura di sicurezza attuale ma vi dà anche un assessment ripeto rispetto anche a determinati regulation quindi anche determinati certificazioni regulation che un'azienda può può intraprendere quindi questo è un punto sicuramente importante il continuous monitoring un altro punto importante è anche la sicurezza è anche il punto di protezione stessa quindi come posso in terzo tecnico fare hardening delle risorse protette da defender for cloud e l'altro punto importante è anche la remediation quindi come posso fare una remediation rapida e veloce su certi threat su certe minacce che rileva la piattaforma defender for cloud quindi questi sono i tre grossi ambiti nei cui agisci certo uno pensa defender for cloud e magari il nome può anche trarre un pochettino in inganno nel senso che abbiamo detto multi cloud multiplatforma ma soprattutto si parte da quelli che sono i macro pillar del cloud virtual machine storage container key vault cioè database insomma il concetto di security non è una cosa limitata solamente alle virtual machine perché purtroppo uno dei grossi problemi che continuano a esserci nel mondo aziendale per chi approccia al cloud non è ah vabbè ma tanto il cloud è sicuro mi hanno detto che devo mettere tutto in cloud perché non premesis non posso difenderlo come il cloud e quindi attivo basta ho finito invece paradossalmente il cloud è anche più pericoloso nel senso che è un veicolo molto più grosso insomma più grande diventi più in vista sei e più vieni attaccato giornalmente quindi anche da questo punto di vista proviamo un attimino a spiegare alcune delle sotto funzionalità di defender for cloud magari per virtual machine piuttosto che per per gli altri componenti cloud sì assolutamente quello che dicevi prima della cloud è verissimo alla fine paradossalmente se non correttamente configurato è anche meno sicuro della della stessa ambiente on premise e questo questo punto importante è sicuramente può avere un senso abilitare il circuit score e quindi il parametro che vi dicevo poco anzi quindi il punteggio che vi dicevo poco anzi perché quello si basa poco sulle security recommendation sulle best practice microsoft che vengono applicate al contesto attuale del cliente quindi al contesto del tenant azure che si viene a trovare il cliente quindi delle delle best practices delle raccomandazioni contestualizzate nel contesto del cliente e che possono avere delle action quindi delle remediation che possa attuare direttamente alla piattaforma quindi questo è un punto importante se più scuro che scusa mi sa lo stress ma è un punto fondamentale nella piattaforma defender cloud delle secure postroom management ed è un altro cosa importante è un punto che possiamo abilitare anche ora cioè tutti i clienti che hanno una possono uscrizione azure possono già abilitare defender for cloud la versione gratuita e già iniziare a verificare qual è la sua security post ovviamente ci sono determinati limiti della piattaforma a livello di gratuità a livello della piattaforma della piano free ma già da questo punto possiamo vedere la postura di sicurezza del cliente dal punto di vista del tenant altro punto importante i workload perché come dici tu abbiamo il mondo cloud ma abbiamo anche tutto il mondo on premise abbiamo tutto mondo multi cloud un punto importante la piattaforma defender for cloud è che soprattutto su alcuni workload come ad esempio i workload dei server posso abilitare una protezione multi cloud e anche ibrida quindi posso proteggere ambienti google cloud e ambienti avs direttamente con delle api quindi posso richiamare delle api che google cloud e avs mettono a disposizione per andare a richiamare la sicurezza di queste macchine su altri altri cloud e andarli vederle sulla dashboard defender for cloud quindi un'unica dashboard holisticamente per poter andare a visualizzare tutti i miei server che sono su tutte le mie piattaforme multi cloud oltre a questo c'è il mondo on premise quindi il mondo ibrido e qui gioca un punto importante una tecnologia che magari qualcuno di voi o anche tu avrai letto in passato si chiama Azure Arc Azure Arc è fondamentalmente una tecnologia che ci permette di poter visualizzare delle macchine on premise sulla piattaforma sul dashboard di defender for cloud quindi sulla dashboard Azure e da lì poter abilitare tutti i criteri di protezione che ci davano Bocanzi quindi la protezione sulla parte dei server quindi enterprise detection e response quindi non solamente un classico antivirus ma andare anche a fare una remediation a fare una detection di minacce anche avanzate e andarli a visualizzare direttamente sulla dashboard. Quindi questo è tutto quello che riguarda il mondo di multi cloud e abilitare. Tu poi hai tirato su subito hai alzato la palla anzi tu palla io sono alto schiaccio facilmente hai parlato di macchine virtuali hai parlato di Azure Arc e quindi io ti darei quasi il gancio per parlare di Microsoft defender for endpoint nel senso che protezione non può esistere se non abbiamo una soluzione di EDR all'interno delle nostre macchine e da questo punto di vista l'utilizzo di defender for cloud può abilitare perché condizionale è d'obbligo ma dal mio punto di vista dovrebbe essere mandatorio può abilitare l'utilizzo di Microsoft defender for endpoint per andare a proteggere i server in modo avanzato utilizzando il piano P2 quindi qualcosa di veramente avanzato che ci fa response detection come hai detto tu che ci fa l'assessment che ci fa tutta una serie di cose in modo avanzato. Ma la particolarità di questa soluzione è che poi è tutto integrato nel senso che quando noi attiviamo defender for cloud lo andiamo a installare sui nostri oggetti attraverso Azure Arc diventa tutto semplice perché è tutto automatizzato quindi non ho n installazioni da fare n configurazioni da fare ma viene tutto quanto pilotato e magari come hai detto tu integrato con Sentinel mi porto dentro i log e ho subito una posture in tempo reale di quello che succede. Sì, sì, allora voglio anche chiarire qualche aspetto perché chi ascolterà poi questo video è importante che mi piacerebbe che rimanesse qualche messaggio. Il primo messaggio come dicevamo prima defender for cloud è una piattaforma di cloud security post management quindi vi dà una posizione di sicurezza potrebbe essere la vostra infrastruttura. Secondo punto importante defender for cloud è una piattaforma che protegge i server e adesso cito giusto due parole sui server ma protegge anche altri workload come dicevamo Canzi quindi anche tutto il mondo dei data services tutto il mondo della rete tutto il mondo dei containers quindi containers anche su un ambiente AWS tutto il mondo della database e con un database intendo non solo SQL ma intendo anche Azure SQL intendo MySQL intendo anche database non propriamente Microsoft quindi questo è un punto importante. Defender for cloud poi ha una protezione anche sul mondo dell'OTIoT e quindi anche tutto questo mondo può essere protetto direttamente attraverso la piattaforma Defender for cloud. Quindi è importante indicare che non c'è solamente Defender for cloud non è solamente per la protezione dei server multicloud e ibrido ma anche per la protezione di altri workload. Sul mondo dei server sicuramente ha una marcia in più. Perché la marcia in più? Perché può richiamare come dicevi giustamente tu il Defender for endpoint che utilizziamo sul mondo dei client andandolo applicare sul mondo dei server e ovviamente andandolo espandere. Perché? Perché ovviamente il mondo dei server ha delle esigenze molto diverse di protezione dal punto di vista rispetto al mondo dei client e quindi andiamo a abilitare delle funzionalità come ad esempio dei vulnerability assessment continui. Posso lanciare dei vulnerability assessment sui server attraverso Defender for cloud anche perché abbiamo fatto una partnership con un provider importante che è Qualis. Altro punto importante è il file integrity monitoring che è una funzionalità che diciamo pochi non tanti conoscono però è una funzionalità che spesso e volentieri si trova per trovarla bisogna acquistarla con prodotti di terze parti. Quindi il file integrity monitoring fondamentalmente va a fare un monitoraggio continuo dell'integrità dei file, né più né meno. E questo è un punto importante perché nei server è fondamentale andare a monitorare continuamente questa integrità perché se ovviamente manca questa integrità vuol dire che c'è stata qualche azione malevola, qualche manomissione dei server. Questo file integrity monitoring come dicevi tu è all'interno di un piano di Defender for cloud for server chiamato piano 2. Quindi è un punto importante come tant'è la funzionalità. Certo, quindi diciamo che se vogliamo un pochettino ricapitolare Defender for cloud è una soluzione multicloud e cross platform. Quindi si integra con Microsoft, si integra con AWS, con GCP, funziona su ambienti Windows, funziona su ambienti Linux, funziona ovviamente in ambienti Kubernetes indipendentemente dal sistema operativo, indipendentemente da dove si trovi, on premises e in cloud quindi ibridazione totale. Però la domanda è sempre quella. Dato per scontato che ormai ci hai convinto e quindi è una soluzione che ogni azienda deve avere a bordo, io che non ce l'ho, a che costi vado incontro? Assolutamente, ovviamente il punto dei costi è sempre un punto fondamentale e lo affrontiamo sempre ad ogni nostro incontro e ci tengo anche perché ovviamente è nelle conversazioni. che facciamo con ogni realtà aziendale. A livello di costi, il costo fondamentalmente della piattaforma Defender for cloud può essere contestualizzata in questo modo. Se io abilito Defender for cloud all'interno della sottoscrizione Azure attiva, quindi un vostro cliente, un nostro cliente che ha una sottoscrizione Azure può andare a cercare dalla barra in alta dell'Azure portal Defender for cloud, abilita Defender for cloud e può iniziare a vedere una security posture dei suoi workload abilitati, ad esempio i server. Quindi può già vedere una prima postura di sicurezza di questi workload. Ovviamente ci sono alcuni suggerimenti di queste posture di sicurezza che andranno a puntare sul fatto di poterli andare a fare remediation, ad esempio andare a proteggere un server su Azure o un server su AWS, un server su Google Cloud o un server on premise. Questa protezione può avvenire o con EDR di terze parti o con EDR Microsoft e in questo caso si può abilitare Defender for cloud for server sul server protetto dalla piattaforma. Questa protezione ha un costo, questo costo varia per il workload, ad esempio per i server si divide in due piani, piano 1 e piano 2 fondamentalmente e all'interno di questi due piani ci sono delle protezioni EDR base o delle protezioni EDR più funzionalità di sicurezza avanzate. La funzionalità di file integrity monitoring che vi citavo prima fa parte del piano P2, come vi dicevo un poc'anzi. Voglio abilitare altre protezioni, ad esempio Defender for cloud sugli storage account, altro punto importante, potrei abilitare Defender for cloud for storage e qui andrò a ricevere una fatturazione sulla base di quanti storage account vado a proteggere. Quindi questo è un po' il modello di fatturazione e il modello di pagamento della piattaforma Defender for cloud. È molto modulare ovviamente sulla nostra pagina per Defender for cloud abbiamo tutte le singole voci che compongono i voti. Certo, però è importante capire come poter calcolare in base alla propria realtà insomma. Un punto che ci tengo a sottolineare anche per raggiungere questo tema dei costi, abilitando Defender for cloud posso incorrere in dei benefici utilizzando la piattaforma. Perché? Perché abilitando Defender for cloud ad esempio piano 2 per un server posso beneficiare di spazio disponibile gratuitamente sulla piattaforma Sentinel, il nostro SIEM cloud based. E quindi fondamentalmente da un lato vado a proteggere un server, dall'altro lato questo server mi permette, mi abilita di pagare meno la piattaforma Sentinel che mi va a monitorare tutto il mio ecosistema. Certo. Questo è uno dei tanti vantaggi. Certo, poi chiaramente se qualcuno vuole maggiori informazioni anche su come si gestisce tutto possiamo rimandare ai precedenti video che abbiamo fatto insieme a Simone durante le pre-teams conference per avere maggiori dettagli anche su tutto quello che è il mondo di security che comincia adesso e finisce tra chissà quando. Il nostro tempo a disposizione purtroppo è finito, quindi ringraziamo Simone, grazie Irene. Grazie, grazie Simone. È arrivato il momento del nostro brindisi, quindi direi di prendere il nostro Meme cocktail. Lo shakeriamo bene. Shakeriamo molto bene, non come le ultime volte. Cine Simone, Cine Irene. Cine a voi. Grazie ancora Irene. Grazie. Grazie Simone. Appuntamento al prossimo video. Ciao.